Ok, questa è la seconda parte della puntata di fumetti senza zucchero, appunto che era troppo lunga, quindi l'ho divisa in due. Se per caso ve la fosse persa, mi raccomando andate a recuperare prima la prima parte e poi guardate la seconda. Beh, ci sta, no? Staremo minca andando un po' lunghi, e sì che stiamo andando un po' lunghi, quindi ci sbrighiamo e ci sbrighiamo tornando sui fumetti, tornando su Stefano Cardoselli e questa volta i disegni di Stefano Cardoselli e Andrea Amenta alla scrittura. I disegni di Stefano Cardoselli questa volta ce li vediamo in bianco e nero. E vi dirò che in bianco e nero, tutto sommato, rendono anche molto bene, nonostante i colori siano fighissimi, i suoi colori, però anche in bianco e nero è bello wow. Bello wow. Vediamo il protagonista, un ragazzo che è in una tavola calda, sta mangiando in una tavola calda e davanti a lui, che mangia con lui, c'è la morte. E scopriamo che la morte ha un bizzarro senso dell'umorismo, veramente. Una storia pulp, una storia a tratti splatter, vedete ci sono delle scene molto forti, molto intense, una storia, vedremo comparire anche un personaggio, quindi vedremo lo scontro con questo personaggio. E il primo personaggio è quello che è a mangiare con la morte, se non sbaglio è lui, sì, a mangiare con la morte, sì, ok, mi stavo tanto confondendo appunto perché sono due personaggi, un prete e quest'altro personaggio che non ha memoria, cioè lui sa che è stato in Vietnam, ha dei ricordi della guerra, ma non si ricorda chi è, cos'è, dov'è, cosa deve fare, non si ricorda niente. E c'è questa morte con questo bizzarro senso dell'umorismo. Una storia appunto sulla droga, sulle droghe usate in guerra, su una storia splatter, una storia forte, una storia violenta, una storia cruda, una storia disegnata con... non voglio dire cavolate perché non sono un disegnatore, non sono così pratico, ma sembra disegnata con l'uniposca, cioè disegnata proprio in maniera graffiante, aggressiva, 16,90€, un bel cartonato, sempre dalla catta publishing, unica piccola critica, mi scudo con la casa editrice, però è che il fatto che in alcuni punti, soprattutto quando le pagine sono tutte nere, vedete, il nero ogni tanto, anche lì, è un po' sbiaditino. Forse la carta è migliore di Kraken Inferno, però è un pizzico ogni tanto sbiaditino, molto meno che nell'altro, perché nell'altro quei colori davano un po' fastidio, questa è la carta sicuramente migliore, però è un po' sbiaditino, però veramente è una storia in cui vedremo un sacco di sangue, sembra veramente un... sembra un film di Tarantino, sembra un film di Tarantino, assurdo, esagerato, violento, pieno di sangue, pieno di sparatori, pieno di esagerazioni, pieno di personaggi che con una battuta riescono ad essere ipercaratterizzati, fighissimo, ve lo straconsiglio, Sunshine Dome 1971, Stefano Cardoselli ai disegni, Andrea Amenta alla scrittura, fighissimo, ve lo straconsiglio anche questo. Procediamo un po' velocini, perché il caffè è freddo, dal caffè è freddo capisco che sto parlando tanto, e che mi sono inalberato sugli ebrei ultraortodossi, mi sono visto, la facciamo un po' veloce, mi sono visto la prima cosa bella, un film del 2010 di Paolo Verzi, ne ho trovato su Netflix, era un botto che volevo vederlo, cioè calcolate che io me l'ero scaricato, quando al tempo ero giovane, nel tipo nel 2012, una roba del genere, e c'era nel computer dal 2012, non l'ho mai visto, poi l'altro giorno l'ho visto su Netflix e ho detto alla mia ragazza, ce lo guardiamo, sto cacchi finché vuole vederlo nella vita, bello, parla di due ragazzi che sono cresciuti, ora la loro madre è in una clinica di... in una casa di riposo, perdonatemi, in una casa di riposo, e rivivono e ripensano, e la loro madre non sta benissimo, quindi sanno che ha un tumore, quindi sanno che sta giungendo al termine della propria vita, e questi ragazzi quindi rivivono tutto quello che hanno vissuto con questa madre, una madre un po' naif, un po' sopra le righe, un po' sciocchina, diciamo, un po' illusa, quindi ad un certo punto è cominciata a fare l'attrice, si è innamorata nel mondo del cinema, una madre molto sopra le righe, una bellissima donna, quindi tutti si innamoravano di lei, e un po' la usavano fondamentalmente, quindi c'è il racconto molto delicato di questi bambini, che stanno con la propria madre, e vivono sulla loro pelle tutte le vicende che ha vissuto sua madre, un film che mi ha fatto incazzare in diversi punti, ci ha dato molto fastidio il fatto che, se sei un genitore comunque devi pensare che hai dei figli e delle responsabilità, cazzo, quindi non è che puoi fare quello che vuoi trascinando sti gagni da una parte all'altra, un film però delicato, un film che alla fine mi ha fatto scendere qualche lacrimuccia, lacrimuccia perché comunque è molto toccante verso la fine, però un bel film, io ve lo consiglio, se avete voluto di vedere una commedia drammatica, perché in alcune parti fa ridere, in altre no, assolutamente, però molto intenso, molto bello, un bel cinema italiano, secondo me vale la pena di essere visto, un'altra cosa italiana che vale la pena di essere vista, secondo me è Orecchie, film che trovate su Netflix del 2016 di Alessandro Aronadio, Aronadio, perdonatemi, film in bianco e nero, film in bianco e nero, la trama è un uomo si sveglia con un fastidioso fischio alle orecchie e con un post-it sul frigo, lasciato dalla fidanzata Alice, che gli annuncia la morte del suo amico Luigi, del quale però non ricorda l'esistenza, Oltre a questo, scusate, mi siamo perso un attimo, dopo una serie, sì, scusate, dopo una serie di circostanze bizzarre, inizia a sorgere in lui il dubbio che Alice non sia soddisfatta dalla loro relazione. Nel corso della giornata, l'uomo tenta quindi di scoprire la causa del fischio, l'identità di Luigi e il modo per tornare a essere felice assieme ad Alice. Un film veramente abbastanza assurdo, in alcuni tratti surreale, molto basato su tutti gli incontri che questa persona avrà durante questa giornata. Incontri appunto, basati un po' sul fatto di capire questo fischio che sente nell'orecchio che cos'è, quindi andare dai medici, un po' per capire questo Luigi, che la ragazza l'ha lasciato il post-it dicendo è morto il tuo amico Luigi, ma lui non ha nessun amico che si chiama Luigi. Quindi capire chi è questo Luigi, il funerale è la sera, capito? Quindi arrivare a capire ma chi è questo Luigi? È molto basato sul fatto che lui incontra determinati personaggi e ogni personaggio è veramente assurdo, qualcuno fa più ridere, qualcuno un pochino meno, però ogni personaggio è assurdo ed è caratterizzato bene perché è sopra le righe. Lui subisce fondamentalmente tutti questi personaggi tra il demenziale e l'idiota e deve subirse di tutti lui in una giornata de merda che sta passando. Quindi carino, una commedia un po' cinica, interessante, particolare il fatto... Non vi voglio dire troppo, ci stavo pensando particolare il fatto del formato dell'inquadratura. Non vi dico nulla di più, facciamo così. Però bellino, vi dico solo che c'è una scena che mi ha fatto morire da ridere in cui lui a un certo punto sta camminando. Poi tutto in bianco e nero questo film, sembra neorealista. Sta camminando, c'è tutto si gira e c'è una signora, anche in là con gli anni, che limona con un ragazzo visibilmente più giovane di lei. Sono lì che limonano con passione, tutti avvinghiati, e lui li guarda così, dopo un po' fa Mamma! Ed era sua madre, non so, questa scena mi ha pisciato da ridere. Sua madre è un altro personaggio assurdo. Comunque provatelo, orecchie su Netflix, interessante. Interessante come interessante la serie Non ho mai, serie che è uscita nel 2020 su Netflix, dovrebbe essere se non ricordo male, adesso vado un attimo a controllare. Fondamentalmente una commedia scolastica, sto controllando se per caso è... Tra l'altro su Netflix ha messo il secondo film di Sin City, non l'ho ancora visto, il primo mi era molto piaciuto, io adoro Sin City, la serie a fumetti. Il secondo film però mi hanno detto che non è che sia proprio il massimo, eh? Me lo confermate che il secondo film non è proprio il massimo? Ok, non ho mai comunque si trova su... Su Netflix sono una decina di puntate da 20 minuti. Parla di questa ragazza, anzi, ho la trama qua davanti, perché inventarmela? Dopo aver vissuto un dramma, Devi, che è il nome della ragazza, comincia il secondo anno delle superiori, determinata a scollarsi di dosso alle vecchie etichette e a conquistare la popolarità. Sto diventando cieco e vecchio e scemo. Questa ragazza è una ragazza indiana, quindi vediamo anche qui l'incontro tra la cultura indiana e la cultura occidentale di un liceo degli Stati Uniti fondamentalmente. Lei che vuole essere popolare, lei suona l'arpa in un'orchestra, nella prima puntata vediamo che durante un'esibizione, praticamente mentre lei stava suonando sul palco, suo padre è morto. Perché le serie devono cominciare sempre con un genitore che crepa, se no non vanno bene. Il padre è morto e lei ha subito un trauma, praticamente per un tot di mesi non ha più camminato, è rimasta sulle sedie a rotelle per il trauma. Poi è ripresa a camminare, quindi adesso vuole scrollarsi l'etichetta di quella a cui è morto il padre, quella che aveva la disabilità, che non riusciva a camminare, e vuole fondamentalmente fare sesso con un ragazzo molto figo che c'è nella serie, e vuole soprattutto emanciparsi, vuole essere libera e godersi la vita, quindi lei e le sue due amiche, anche loro un po' nerdine e un po' sfigatine, e vogliono semplicemente essere un po' più popolari. Tutto sommato funziona, perché la trama non è nulla di così originale, non è nulla di mai visto, però scorre bene, funziona bene, i personaggi sono ben scritti, non c'è nulla di eccessivamente fastidioso, tranne magari qualche punto, però tranquillamente si fa guardare, e poi è bello vedere appunto il contrasto tra la madre della protagonista, che è abbastanza religiosa, e tiene molto le sue radici indiane, mentre lei che è molto più occidentalizzata, quindi comunque è una commediola che io vi consiglio, secondo me non è male. E detto questo, sicuramente corriamo un po', perché se no non ne usciamo vivi, e la passo velocissima, raga, ho guardato le prime due puntate di Summertime, sera del 2020, la trovate su Netflix, è stata annunciata come la serie di tre metri sopra il cielo. Devo dire altro? Ho guardato due puntate, raga, è una cazzata, ma una cazzata a livelli fotonici questa serie, è veramente epocale quanto è una cazzata questa serie, è assurda, è assurda, raga, è assurda, è pieno di musica giovane, è pieno di cose che fanno i giovani, e non lo so, intanto a parte che sei fuori tempo massimo, mi ha fatto bene non chiamarla tre metri sopra il cielo, perché tre metri sopra il cielo andava de moda 15 anni fa, cioè, chi se lo ricorda più? Cioè, sì, se lo ricordiamo, se lo ricordano quelli che come me hanno 30 anni oggi, e io personalmente me ne ricordo come una merda. Magari... Poi tre metri sopra il cielo era fondamentalmente gris, che poi tre metri sopra il cielo, adesso è questo, è sempre la solita storia. Lui che è badass, va in motocicletta, lei è brava ragazza che lavora, si incontrano all'amore impossibile, sboccia, olè. Fondamentalmente è questo. Semplicemente si viene un po' attualizzato, ovvero adesso la ragazza è molto più emancipata, è molto più cazzuta, perché non c'è più, grazie a Dio, lo stereotipo dell'uomo deve conquistare la donna, la donna fragile. No, cioè, siamo nel 2020, le donne, grazie a Dio, sono la maggior parte emancipate, e quindi anche in questa serie si vede la donna un po' più emancipata, però comunque è piena di stereotipi, cioè nel senso, i personaggi rispettano tutti dei pattern stereotipati, assurdi, appunto un sacco di musica, trap, c'è anche qualche canzone che mi è piaciuta, c'è anche Salmo, tipo nelle prime puntate, però veramente è una roba che... Poi la cosa assurda è, lui corre in moto, ha avuto un incidente, non è spoiler, ve lo dicono subito, e raga c'è un punto in cui, tipo, ma nelle prime 20 minuti, lui ripete qualcosa come 12 volte, ho male alla spalla, com'è andata la prova? Ho male alla spalla, è corso un po' poco oggi, ho male alla spalla, abbiamo capito che hai male alla spalla, hai anche cacato il cazzo che hai male alla spalla, ho visto due puntate, non la continuo manco, se mi ammazzo, ma andiamo ai fumetti, andiamo ai fumetti, torniamo ai fumetti, torniamo alla doppietta classica, che tiriamo fuori in fumetti senza zucchero, quindi, hopla, Dylan Dog 404, intitolato Anna per sempre, devo ancora vedere il video di Danilo, di fumetti senza paura, che guardo ogni volta che leggo Dylan Dog, perché mi spiega il Dylan Dog fondamentalmente, quindi ve lo straconsiglio, e quindi andate a vederlo anche voi, che ve lo straconsiglio, perché va visto appunto questo, non l'ho ancora visto, ma lui è sempre molto preciso, quindi sono sicuro che farà un'analisi ottima del volume, ottimi disegni, mi sono piaciuti un sacco, i disegni di Dylan Dog si stanno mantenendo, secondo me, ad ottimi livelli, Dylan Dog, in questo volume è difficile parlarvele, senza fare spoiler, in questo volume Dylan Dog incontra un personaggio storico, molto importante della vita precedente di Dylan Dog, ma non vi posso dire chi, perché è uno spoiler, e soprattutto affronterà un suo problema, ora, ve la faccio breve, a me mi è piaciuto il volume, io ho solo un timore, che Dylan Dog stia andando sempre di più con questa miniserie, a parte che questa miniserie è la macro trama che abbiamo visto cominciare nel 403, non è neanche minimamente accennata di questo serial killer che c'era, e quindi questa cosa non mi è molto piaciuta, perché speravo che continuasse quella macro trama, però va bene. Recchione ha detto in mille live che comunque adesso Dylan Dog sarà tutto a cicli, una cosa che ha preso tantissimo, va benissimo, fate benissimo, ottimo, quindi quando finirà questo ciclo, forse saranno due o tre numeri autoconclusivi, e poi comincerà un altro ciclo, io ho solo paura che Dylan Dog sia un po' tornando il bravo ragazzo, tornerà il bravo ragazzo che era prima, guardate che, tra l'altro che figa questa sbrelucica, questa roba, il bravo ragazzo che era prima, no, no, dai, cioè, io odiavo Dylan Dog perché lo trovavo proprio un boy scout, cioè, troppo buono, sempre devoto al bene, se c'è qualcosa perché l'ho fatto io, perché sono, ho sbagliato io, devo migliorare le cose, devo salvare il mondo, ok, invece questo è più tormentato, non alcolizzato, è un po' più tridimensionale come personaggio, personalmente lo apprezzo molto di più, dopo questo, sembra comunque voler affrontare un suo problema, che ok, che magari ci sta anche con l'affronta, però basta che rimanga sempre una spina nel fianco, non che ho affrontato quel problema, l'ho risolto, sono buono, ciao, non so se mi sono spiegato, lo so che è un po' complicato, se non avete letto il VOOM, e se l'avete letto probabilmente capirete, comunque spero che continui su ottimi livelli di Landog, mi sta molto piacendo, mi sta molto piacendo, e ne approfitto per parlarvi anche del cugino di Landog, possiamo chiamarlo così, ormai Samuel Stern, il numero 6, che si intitola Valerie, un numero molto interessante, perché a differenza del solito, non è scritto da Fumasoli, ma è scritto da, scusate, io sto cercando, soggetto e sceneggiatura Luca Blengino, quindi è il primo numero, l'ho scritto da Fumasoli, un bel numero, in questo numero, si cerca di rispondere a una domanda, ovvero, cosa succede a una persona, dopo che viene esorcizzata? Ed è una domanda molto interessante, effettivamente, perché dopo che uno subisce un esorcismo, cosa gli succede, o cosa gli può succedere, non è che succede tutta la stessa cosa, quindi è bello, ormai abbiamo capito che, di Landog, Samuel Stern fondamentalmente, ha lo scopo di, andare ad analizzare l'esorcismo e quel mondo, sotto chiavi di lettura differenti, cosa che apprezzo tantissimo, cosa che mi piace tantissimo, io vi invito caldamente a recuperare, la live che ho fatto io e Momo, assieme a Fumasoli, è stato gentilissimo, io non avevo mai parlato con Fumasoli prima, penso di no, non l'avevo mai conosciuto, è una persona super disponibile, ha risposto a tutte le nostre domande, sapeva perfettamente che io e Momo, abbiamo dei dubbi abbastanza simili, su Samuel Stern, ha risposto a tutte le nostre domande, senza fare nessun tipo di spoiler, ci mancherebbe, ma è stato super disponibile, è super gentile, e vi garantisco che, non è così scontato, che un editore si metta, a disposizione del pubblico, per rispondere alle sue domande, quindi super gentile, vi lascio nelle schede la live, andate a recuperarla, in più ha fatto sempre Fumasoli, sul canale, su il canale di Kuro, ha fatto una live, lui Fumasoli e Recchioni, live molto interessante anche quella, si vede che quando delle persone sono professionali, come Fumasoli, come Recchioni, non hanno paura di parlare col pubblico, di interfacciarsi col pubblico, quando il pubblico non è scemo, quindi quando il pubblico sa fare domande, sa chiacchierare, non fare solo critiche, fine a se stesse o insultare, vengono fuori delle cose molto interessanti, la live con Fumasoli mi ha piaciuto tantissimo, vi dico solo che quando è finita la live, io, Momo e Fumasoli, siamo stati ancora, forse mezz'ora e passa a chiacchierare di Samuel Stern, veramente una persona, cioè non è che pensavo che, prima della live pensavo che fosse stronzo, per carità, ma una persona super disponibile e super gentile, ma torniamo a Samuel Stern, numero 6, mi è piaciuto un bel numero, appunto rispondiamo a questa domanda, l'unica cosa che mi convince un po' poco è, ok, questo numero è abbastanza staccato dalla continuity, perché è un numero scritto anche da un altro autore, quindi comunque ci sta, però a me è piaciuto, comunque appunto interessante e particolare, non amo troppo quando Samuel Stern fa troppo il buo, fa il Dylan Dog di prima, fondamentalmente, lo so che è brutta questa affermazione, ma fa il Dylan Dog di prima, ovvero fa, no, se succede qualcosa di brutto sarà stata colpa mia, perché non sono stato abbastanza bravo, e mi punisco, e quanto devo salvare il mondo, dai, è un po' più, un po' più, un po' più, non so, i personaggi troppo buoni mi stanno un po' in culo, perdonatemi, però, però, penso che, cioè, la serie mi sta conquistando per le storie, più che per Samuel Stern, cioè, i personaggi di Samuel Stern, per ora non mi ha ancora convinto così tanto, le storie invece sì, però Fumasoli ci ha detto che comunque, durante la live, che nei prossimi numeri si approfondirà anche di più il tormento di Samuel Stern, conosceremo più il personaggio, e soprattutto la domanda che, principale che gli abbiamo fatto, che tormentava me e Momo, era, ok, ma Samuel Stern avrà una continuity più serrata? La risposta è sì, da, non mi ricordo che numero, l'ha detto nella live, andate a rivedere la live, però, tra qualche numero, ricomincerà una continuity bella serrata, sono strafelice, lunga vita a Samuel Stern, perché veramente, se lo merita, perché è figo, 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 andiamo avanti, velocissimi, finiamo le ultime cose, il caffè è finito, tra un po' ho finito anche l'acqua, e sicuramente ho finito anche il fiato, ho visto sempre film italiano, The Place, film del 2017, l'ho trovato su Netflix, film di Paolo Genovese, lo stesso di Perfetti Sconosciuti, se non ricordo male, film che mi era piaciuto tanto, se non fosse che Sinergo, maledetto me l'ha rovinato, perché? Perché questo film parla fondamentalmente di una persona seduta in una tavola calda, e altre persone vengono a parlare con lui, fine. tutto il film è svolto dentro questa tavola calda, le pochissime inquadrature che vediamo fuori da questa tavola calda, sono semplicemente inquadrature in cui da fuori vediamo la tavola calda, quindi vediamo tutto il film ambientato attorno a questo tavolo, tutto il film, e nonostante questo il film ha una tensione assurda, perché tante persone vengono da questo personaggio, che non si capisce chi è, cos'è, per chi lavora, non si capisce niente, a chiedergli delle cose, ovvero, vorrei, faccio un esempio, vorrei essere più bella, ok, lui prende la sua agenda, apre l'agenda, sfoglia l'agenda, dice ok, se vuoi essere più bella, devi rapinare quella banca, e se le persone fanno quello che lui gli dice, ottengono quello che vogliono, sul serio, anche cose assurde, tipo, fai guarire il mio marito dall'Alzheimer, fai guarire il mio figlio che è malato, molto particolare, è ovvio che tu più chiedi, più devi dare, un film intenso, un film che appunto, non facendoti vedere nulla, se non loro che parlano, tiene una tensione assurda, tutti i personaggi sono slegati tra di loro, almeno fino a un certo punto, poi qualcosa comincia a combaciare, film fighissimo, non forse che, ho guardato la recensione di Sinergo su questo film, e ha detto che, la storia che danno come originale di Paolo Genovese, poi Paolo Genovese ha detto che è stato, si è ispirata a una serie tv, ma la serie tv si chiama The Boot at the End, sì, ho scritto qualcosa che parte, la serie si è The Boot at the End del 2010, non l'ho ancora vista, pare girata molto peggio, però pare che diverse scene siano identiche proprio, ma spiccicate, cioè c'è una scena in cui c'è una suora che va a parlare con questo personaggio, con questo individuo, e si mette lì al crocifisso quando si siede, e c'è la stessa scena identica nella serie, della serie del 2010, quindi pare proprio che sia uguale, ok, la serie mi ha detto che è fatta peggio, quindi vabbè, magari la provo a vedere per curiosità, non l'ho ancora vista, non ci ho ancora buttato un occhio, però, peccato, preferivo non saperla questa cosa, però è giusto saperla, però il film è fighissimo, io ve lo straconsiglio, The Place, perché poi appunto, passi tutto il film a chiederti chi sia lui, come faccio a fare quelle cose, e non vi concentrate troppo su questo particolare, perché non è il fulcro del film, concentratevi su cosa chiede alle persone, su cosa le persone sono disposte a fare per ottenere determinate cose, interessante, bello l'intreccio che si crea, bella tensione, appunto tutto è girato attorno a un tavolo fondamentalmente, gran figata, mi è piaciuto un sacco, nonostante appunto, ma poi ho cercato in rete, ci sono diversi articoli sul fatto che paia un po' un plagio, va bene, ok? Tenete conto che forse è un po' un plagio, ma guardatevi comunque il film, oppure provate questa serie, però pare che non sia girata poi così bene, però provate anche la serie, vedete un po' voi? Fatemi sapere nei commenti, ultima cosa, in una serata strana, io e le mie ragazze, forse dopo aver visto The Place, ci siamo visti Silvio Forever, il documentario su Silvio Berlusconi, io penso che noi ancora, noi italiani ancora per molti anni pagheremo i 20 anni di Silvio Berlusconi e di quello che ha fatto in questo paese per Diana, va bene, andiamo avanti, anzi andiamo avanti, siamo praticamente alla fine, e volevo dirvi solo che io non sapevo questa cosa, voi lo sapevate che su Prime puoi comprare o noleggiare dei film a pagamento? L'altro giorno ho visto un film e ho detto, cavolo volevo vedermelo, sono andata a vedere, e ci ho detto, noleggia questo film, è una cosa che è un servizio che c'è da poco, il fatto è che finché mi fai film tipo Joker, che magari è uscito da poco, va bene, posso ancora capire, nonostante costino tipo 4-5 euro a noleggiarlo, cacchio, falli a tipo meno, cioè non so come funzioni i diritti, non so se puoi, ma falli tipo a 2 euro, è il stesso principio, se fai 2 euro mi compro 3 film e sono arrivato a 6 euro, me ne fai 1 a 5 e non lo compro, non l'ho capito, ma poi oltre ai film recenti ci sono anche film vecchi, ho visto dei film del 2010, cazzo ma, e li fai pagare, cioè nel senso, vabbè, comunque Prime ha messo questa roba che puoi noleggerti i film, vabbè, va bene, va bene, io pensavo che prima o poi Prime diventasse a pagamento, cioè per ora è insieme a, cioè Prime Video, per ora è insieme al servizio Prime, di Amazon Prime, un abbonamento unico, io pensavo che prima o poi invece ti facessero abituare ad alcune serie esclusive, tipo The Boys, tipo un sacco di esclusive di Prime Video, e poi dicessero ok, adesso è pagamento Prime Video, invece quanto pare no, vogliono puntare su questi servizi di noleggio, dei video, poi ho letto, ho letto praticamente il video, lo noleggi, rimane tuo per due settimane, da qua, e quando inizi a vederlo, hai ancora 48 ore per finirlo, una roba del genere, se lo troppo puoi comprare il film, rimane direttamente tuo, ah, non mi ricordo le cifre, va bene, non importa, questa puntata titanica è finita, grazie mille per aver ascoltato tutta questa puntata, iscrivetevi al canale, salutate la mia cucina, no, ma forse qualche video in cucina lo facciamo ancora, quindi la vedrete ancora, poi mi trasferirò, e sarà tutto nuovo, set nuovo, mondo nuovo, parete verde, mi sa che non ci sarà, chi lo sa, vedremo, trovate in descrizione, i link, ai miei canali social, Instagram e Facebook, e direi che ho parlato abbastanza, quindi signore e signori, noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.